Luca allora con l'amichevole si è concluso il ritiro estivo ti chiedo intanto hai segnato due gol è vero che è calcio d'estate però che valore hanno questi gol che hai messo a segno? Sono dei gol importanti sia per me che anche anche per la squadra perché vincere aiuta sempre a vincere è vero che è un calcio calcio d'estate ma dobbiamo dare sempre il massimo partita per partita ma il gruppo è unito siamo siamo stati sempre sempre uniti questo ritiro è andato è andato molto bene perché abbiamo lavorato tanto ma siamo pronti subito per per questa partita di Coppa Italia sto bene sto bene sia fisicamente che mentalmente quindi siamo pronti sia io che tutta la squadra questo inizio di campionato. Il primo allenamento a Palermo allo stadio Renzo Barbera davanti ai tifosi che emozione sarà e soprattutto quanto può essere importante? Sicuramente è importantissimo avere i nostri tifosi allo stadio poi è un'emozione sempre particolare per noi avere questa la nostra gente allo stadio quindi domani sarà un'emozione bellissima. Questa è la settimana di avvicinamento al primo impegno ufficiale quello in Coppa Italia quanto può essere importante iniziare col il piede giusto? È importantissimo iniziare con il piede giusto come ho detto prima vincere aiuta sempre a vincere dobbiamo essere concentrati per questa partita e dare sempre il massimo è sempre bello avere tanti palermitani tanti palermitani squadra quindi con l'arrivo di mazzotta siamo ancora ancora di più ed è bello parlare sempre in palermitano poi siamo tutti quasi tutti i palermitani anche i magazzinieri e tutti ci siamo è bellissimo avere tanti palermitani squadra. Certo abbiamo lavorato un anno con il mister quindi sappiamo le tattiche e i movimenti che vuole il mister noi dobbiamo solo applicarli e fare bene.